Buonasera a tutto il popolo del meeting e agli amici che in questi giorni ci hanno seguito da casa è arrivato il momento per noi di presentarvi delle persone che in questi giorni hanno lavorato dietro il quinto del meeting, abbiamo qui dei componenti della redazione web abbiamo Giulia, abbiamo Stefano e abbiamo Giovanni adesso io chiederei a ognuno di loro di raccontare un po' la settimana che hanno vissuto e quello che hanno provato lavorando anche più di 12 ore al giorno Giulia, insomma che settimana è stata per te? Allora, è stata una settimana molto intensa perché il lavoro è stato tantissimo però ci siamo divertiti un sacco, è stata molto appunto una bella avventura e basta E te Giovanni? Beh, diciamo che è stata sì, come hai detto lei, una settimana abbastanza pesante poi la sveglia abbastanza presto quindi hai fatto un po' fatica però c'è stato modo di... cioè l'ora per guardarti per bene in faccia c'era sempre quindi al di là del lavoro che c'era sempre comunque era come se fosse una parte... come se fosse casa mia all'interno del meeting quindi è stato molto bello poi al di là delle cose, incontri, caricare la roba sul sito, comunque è una cosa che mi ha colpito molto, molto bello E te Stefano dai, concludiamo in bellezza, cosa ti porti a casa dopo questa settimana? Beh, mi porto sicuramente dei grandissimi rapporti in quanto diciamo la nostra convivenza quasi forzata ci ha portato diciamo a creare un rapporto molto intenso e sicuramente molto bello e piacevole Va bene, allora salutiamo questi tre fantastici ragazzi Ciao Vi auguriamo una buona serata Ciao Ciao